Come li inquadriamo questi monopattini? Io le dico a titolo personale quello che avrei fatto io se fossi stato ministro come legislatore. Ma lei era ministro quando c'è stata la... La sperimentazione è una cosa, la legge, la sperimentazione viene prima della modifica del codice della strada. Io li equiparerei ai velocipedi, alle biciclette. Quindi ha perso un'occasione per fare la legge quando era ministro? Se un sindaco riesce ad utilizzarlo diminuendo il numero dei ciclomotori, dei motoveicoli e delle macchine e sostituendolo con i monopattini è un successo per tutti. A Torino, in mancanza di direttive, il capo dei vigili urbani ha equiparato i monopattini ai motocicli e ha mollato multe fino a 6.000 euro, superiori al valore del monopattino stesso. Secondo noi c'è ancora molta confusione. Molti di noi hanno fermato i loro monopattini, abbiamo dei mezzi ecologici fermi a casa.